Entro la prossima settimana e comunque prima di Pasqua sarà attivato il pedaggio gratuito del tratto autostradale tra Francavilla e Pescara Ovest, lo ha dichiarato il sindaco di Francavilla Luisa Russo che proprio questa mattina ha ricevuto la comunicazione dall'ANAS. Il provvedimento come noto nasce dall'esigenza di limitare i disagi agli automobilisti dopo la chiusura della Galleria San Silvestro fuori uso dallo scorso 22 novembre. Il primo cittadino ha sollicitato inoltre lavori di manutenzione della Galleria Le Piane rimasta priva di illuminazione da due settimane. Sì ormai il 15 marzo data che c'era stata indicata per la stipula della convenzione è decorso e non ho ancora notizie. Ho sollecitato telefonicamente ho inviato anche oggi un'ulteriore nota scritta per avere indicazioni precise. Mi è stato assicurato che nel giro di pochi giorni diciamo di una settimana la gratuità diventerà un fatto. Ora confidiamo in questa rassicurazione verbale e aspettiamo risposte scritte e certe. Ogni giorno ha sottolineato inoltre il sindaco Luisa Russo ricevo chiamate dai cittadini che chiedono informazioni sul pedaggio gratuito. Il disagio sulla statale è enorme chiunque di voi insomma può constatarlo da solo perché veramente ci sono dei momenti di grande difficoltà soprattutto ora che sul lungomare di Pescara è stato introdotto un senso unico per dei lavori in corso. Quindi davvero il disagio è enorme e la gratuità del pedaggio autostradale potrebbe alleggerire seppure di poco questo disagio. Quindi noi insistiamo ancora per questa richiesta. C'erano state date assicurazioni. A seguito di queste assicurazioni abbiamo interrotto la protesta che avevamo organizzato. Non vorrei dover tornare a fare un'altra protesta con i cittadini. Confido nel rispetto degli impegni presi da ANAS e da Società Autostrade e dal Ministero dei Trasporti. Il sindaco Luisa Russo ha inoltre chiesto ad ANAS di intervenire sull'altra galleria presente sulla variante Le Piane al buio ormai da due settimane. Sì anche lì mi segnalano e vedo, ho constatato anche io che ci sono delle infiltrazioni. Ho chiesto ad ANAS di verificare, di farmi sapere che tipo di opere di manutenzione facciano o immagino in maniera ordinaria per evitare che si verificano fatti come quello della galleria di San Silvestro che solo per pura fortuna non hanno provocato incidenti mortali. Ecco, l'assenza di illuminazione può creare seri problemi alla viabilità. L'assenza di illuminazione c'è ormai da oltre due settimane, è segnalata più volte, mi è stato assicurato che erano in attesa di un pezzo di ricambio e che sarebbe arrivato martedì scorso e quindi dovevano installarlo. Oggi è venerdì, la galleria è ancora al buio, il pericolo è grande e speriamo davvero che la riparazione sia imminente. Grazie. Grazie.